Momenti di paura deboli ieri sera per un'aggressione subita dalla consigliera comunale Teresa di Candia e dal titolare della scuola guida presso la quale lavora. Ad aggredirli un uomo del posto già noto alle forze dell'ordine. La di Candia si trovava all'interno della scuola guida in questione quando ha visto il suo titolare in pericolo perché minacciato con una chiave inglese. Nel tentativo di difenderlo la donna è stata colpita con un pugno che le ha procurato un trauma giudicato guaribile in pochi giorni. Ferito anche il titolare della scuola guida colpito alla testa. In mattinata il capogruppo di Leo in consiglio comunale Antonio Conte ha inoltrato una richiesta di convocazione urgente della conferenza dei capigruppo consigliari per affrontare tale fatto.